Ok, per favore, ditemi che non sto impazzendo, cioè... Cioè, il mio pavimento, ma guarda... Ma che cavolo ha il mio pavimento? Perché è così? Butterò questo tappo lì dentro. Ma è sparito! No, 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 questa cosa... E come faccio ad uscire io ora? Cioè, la porta è lì, come faccio ad uscire? Oh, ma cosa sta succedendo? Ok, io non... Io mi sto spaventando, non vorrei che da qua sotto uscisse qualcosa, ma che cos'è? Ma che cavolo sta succedendo? Oh, ma non è normale, non ho mai visto una cosa del genere, il mio pavimento che lievi, ma che cavolo è? Sapevo che sarebbe centrato Ronnie Rodney con tutto questo. Gli ho scritto, gli ho chiesto, ma è tuo lo zampino? Cioè, nel senso, è stato lui a farlo. E lui ha scritto, la magia ora funziona, se supererei queste prove il tuo pavimento tornerà come prima. Quindi questo vuol dire che lui sapeva che il mio pavimento è diventato acqua, che letteralmente è ancora lì che è tutta acqua. Come faccio? E lui, il bello che mi ha detto, io gli ho detto, ti prego lasciami stare. E lui ha scritto, tu mi hai sfidato, non ti libererai di me così facilmente. Clicca qui. Cioè, io praticamente adesso devo assecondare questo pazzo e sperare di fare tutto bene, perché se no il mio pavimento, io non posso uscire dalla mia stanza, perché se no il mio... Cioè, dovrò uscire dalla finestra, letteralmente. Non ho capito, cioè... Cosa è? Mi devo buttare fuori per uscire di casa? Non ho capito. Ma poi perché acqua? Ma poi in quel tappo è sprofondato sotto. L'abbiamo visto tutti. Ok, allora, clicco qua. Start. Oh mio Dio, ma che cavolo di gioco è questo? Ok, voi vedete molto di più di me. Io non vedo già niente. Allora, devo cercare di sopravvivere e... In questo po... Cos'è che c'è scritto qua sopra? Help me, aiutami. Aspetta, ma chi è che chiede aiuto, scusami? Io devo guardare da voi perché se no non vedo praticamente niente. Dove devo andare? Cosa devo fare? Ma che posto spaventoso, strano, sinistro e non destro. Perché i posti destri sono quelli più belli. Invece questo è molto sinistro. Ah, con shift però posso correre più velocemente. Tranquilli, allora, mi sa che devo arrivare in un certo punto. E probabilmente se vinco il gioco avrò completato una sorta di livello che mi ha proposto Ronny. E se non lo completo il mio pavimento probabilmente mi farà sprofondare, non lo so, negli inferi. Quindi vorrei evitare tutto ciò anche perché non vorrei portarvi... Cioè nel senso, cosa faccio il vlog dagli inferi? Ehi, ciao ragazzi, come state? Io sono qua che sto... Cioè, sarebbe veramente una brutta cosa. Sto vedendo una cosa là... Ok, mi sa che è una macchina. E, ok, perfetto. Pensavo che quello fosse tipo una creatura brutta. Ho paura di quello che potrebbe succedere. Need few. Ok, praticamente mi serve carburante. Eh, però grazie carburante, carburante. Cosa me ne faccio io? Cioè cosa... Dove lo prendo io il carburante, signorino? Raga, io sono qui da tipo dieci minuti e non sta succedendo niente. Quindi chiedo a Ronnie che cosa... Cioè perché veramente non sto capendo. Oh, raga, non succede niente. Cioè nel senso, non è colpa mia. Cioè è stato lì che mi ha dato sta cosa. Cioè non si può fare niente, non posso schiacciare niente. Cioè secondo me l'unica cosa... Non si può nemmeno saltare per farvi capire. Cioè non c'è proprio modo. Quindi secondo me l'unico modo... Cioè l'unica cosa che c'è da fare in questo momento è effettivamente chiederlo a Ronnie. Anche se non vorrei. Perché poi dopo se mi dice che ho fallito... E tipo... Mi fa cadere appunto negli inferi. È una cosa brutta, eh. Ragazzi gli ho scritto... Sono a dieci minuti e su quel livello non succede niente. Lui ha scritto... Eccellente. Hai superato il primo livello. Sei stato abbastanza coraggioso da scrivermi. Pur sapendo che saresti potuto cadere nel vuoto eterno per sempre. Che cavolo vuol dire nel vuoto eterno? D'accordo ti mancano ancora quattro livelli dice. Livello 2 io qua dovrei schiacciare. Va bene. Andiamo. Ok io sono dentro... Questa sembra effettivamente una scuola. E voi vedete meglio. Tutto rosa. Un po' brutto. Però... Ok ce la possiamo fare? Ok ho attivato le luci. Il che è positivo perché magari si vede qualcosa. Sempre rosa. Sempre rosa. Però si vede qualcosa. Oddio mio. No. Proprio brutto così però eh. Ok questo è l'ascensore. Io c'entrerei. E questa è una... Fucile. Ok ma scusa. Perché mi serve un fucile innanzitutto? Sono dentro una scuola di notte. Tutto buio. E però non... E il fucile... Cioè il fucile a cosa mi dovrebbe servire? Posso sparare? Posso sparare. E mi piace un pochino. Però ho noto ora che ho i colpi di sotto. Il che non è positivo. Allora. Ehi. Si è aperta... Ma che... Ok. Credo che questa scuola sia infestata da qualche fantasma. Ne ho proprio la certezza. Allora che si è aperta la porta da sola. E mi fa molta paura tutto ciò. Queste sono delle medicine. Che ovviamente prendo per non impazzire. Che probabilmente sono tipo... Psico... Vabbè. Non so che tipo di medicine fossero. Però effettivamente sarebbe curioso capire di che tipo fossero. Allora. Porte. Ma poi che cavolo ci facevano delle medicine nell'armadietto di un ragazzo? Boh. Stranissima questa cosa. Chissà che magari non dovesse... Non era tipo pazzo. Magari era tipo il fantasma che prendeva le medicine prima di essere... Trapassato insomma. Qua c'è scritto... Non guardare lei. Sta parlando di un fantasma. E scusa ma come faccio ad accendere questa cosa? Vabbè. Senti. Io prenderei il fucile. Perché mi sembra più sicuro. Ok. Questo si può aprire. Ok. Prenderò la chiave. Faccio così però. E prendo la chiave. Vabbè. L'ho presa comunque. Anche se... Non importano gli slot. Si vede che mi sto molto... Spaventando come minimo. Ok. Si è aperta con la mia chiave. Che avevo preso prima. E... Ho capito bene dove sta. Andiamo avanti. Vavorosa questa... Questa cosa. No eh. No? Cosa succede? Non ti permettere di venirmi dietro. Perché... Se no poi dopo... Urlo. Cioè. Cosa? Vabbè. Si è aperto. Allora. Non urlarmi nelle orecchie. Perché se no. Guarda. Potrei nervosirmi io eh. Cioè. Se mi urli nelle orecchie. Guarda che... Tranquilli ragazzi. Ci sono io. Ma porca. Di quella miseria. No. Bisogna di munizioni. Ok. Perfetto. Mi sa che si presenterà ora. Tranquilla. Non ti preoccupare. Che qua. Eh. Anche se c'è una croce di incontrare. Però. Non è. Cioè. Non mi spaventa. Cioè. Io. Sono proprio uno psicopatico. Effettivamente. Perché dovrebbe spaventarmi. Però. Scusa. Ma io mi sto chiedendo. Perché le porte non si aprono con i fucili. Dato che c'è un mega fucile in mano. Che potrebbe distruggere qualsiasi cosa. Perché non si apre. Suppongo. Che questi tavoli. Non siano spostati. Spostati da una persona normale. Eh. Boh. Chiediamo di nuovo a Ronny. Non ho capito. Cioè. Mi ha scritto. Io ho scritto. Anche questo non ha senso. Non va. E lui ha scritto. Eh. Allora prova con livello 3. Ma io non vorrei. Mi sembra che Ronny. Stia effettivamente. Sbagliando. I tipo. I livelli. Ho questa impressione. Boh. Clicchiamo. Ok. Io non ho parole. Che cavolo di gioco è questo? Eh. C'è uno che mi sta sparando. Eh. L'ho sparato un po' eh. Sto sparando. Ehm. Bene. Oh. Eh. Vorresti per caso prendermi? Non puoi. Mi spiace. Gli ho scritto completato. E lui ha scritto. Bene. Non cantare vittoria. Te ne mancano ancora due. Livello 4. Andiamo. Ragazzi. Non so dove mi trovo. Ma tutto questo è veramente inquietante. Perché ci sono tutte queste persone che stanno saltando. Ok. Ragazzi. Sto andando avanti. Ti prego adesso. Allora. Questi gialli che vedete qua. Sono checkpoint. Cioè. Praticamente. Sono quelli che ti salvano. Praticamente. La posizione. Quindi. Se cadi. Tecnicamente. Funziona bene. Quindi. Io ora. Se faccio sempre così. Potrei effettivamente. Arrivare fino alla fine. E magari dimostrare a Ronnie. Che effettivamente di qualcosa sono capace. Perché non so. Se lui ci crede che ho completato quel livello. Anche quello degli aerei. Cioè. Nel senso. Più o meno. Cioè. Io combattevo. Ma non finiva più. Praticamente. Quindi. Boh. Cioè. Non capivo lo scopo. Sinceramente. E. Ok. Perfetto. Ma secondo me questi. Poi. Sto anche cercando di capire. Come fa. A darmi questi. Giochetti. Ultimo livello. Beh. Clicchiamo. Ora tecnicamente questo dovrebbe essere lo Slenderman. Infatti qua ho trovato una pagina. Una delle otto pagine. Ok. Fatto fuori. Fatto fuori con la pistola. Com'è possibile che io abbia fatto fuori lo Slenderman? Non ne ho idea. Perché era. Della mia statura normale. Oh mio dio. Via. No. 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 Non voglio. Non voglio di infarto. Raga. Allora. I giochi horror. Vi giuro. Mi fanno molto male a me. Cioè. Davvero tanto. Anche se una cavolata come questa. Ok. Tranquilli. Via. Possiamo scapparcene. Eh. Però ho trovato un'altra pagina. E no. Ce prendi. Due idioti. No. No. Vai via. Busto. Schifoso. Raga. Scusate. Avete visto. Ah. No. No. Allora. Avete visto quanto sono pazzo. Cioè. Avete visto quanto non sono normale. Cioè. Raga. Mi viene da ridere perché sono stra in ansia. Voi non sapete quanta paura io ho ora. Ma tipo tantissima. Perché questi tizi. Non mi danno tregua. Mi sento veramente male. Perché io. Mi metto dentro questi panni. E mi suggestiono molto. Capito. E non dovrei. Perché non corre più. Scappa. Ok. Magari qua all'interno ci possono essere delle munizioni. Ma mi ha ucciso. No. 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 Ti prego. Ragazzi. 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 Ha funzionato. Ultimo livello. Allora. Praticamente. Ho scritto. Mi dispiace tanto. Ti prego. Perdonami. Allora. Sì. Mi è dispiaciuto. Effettivamente. E ha detto. Se me lo chiedi così. Accetto. Sei stato bravo. Negli altri livelli. Guarda il tuo pavimento. Ed effettivamente il mio pavimento. Ora è giusto. Ora posso uscire dalla camera. Oddio. Grazie. Per fortuna. Ho passato i livelli. Spero che non succeda mai più. Ma perché. Allora. Non capisco. Perché ha questa doppia personalità. Cioè. Perché tipo. A volte. Fa il bravo. Cioè. Diciamo. Secondo me. È come se volesse dimostrare. Che può farmi. Del male. Ma non è proprio capace. Di farmi del male. Perché magari non vuole. Oppure perché. Vuole che io faccia altro. Per lui. Cioè. Potrebbe tipo. Volermi. Come dire. Farmi. Amico. Perché. Vorrebbe. Grazie. Grazie. Ok. Cerchiamo. Di capire. Nei prossimi episodi. Scrivetemi nei commenti. Cosa avete capito. Di tutto ciò. E. Ovviamente. Iscrivetevi. Lasciate like. E. Scrivete. Via Ronni. Nei commenti. È importante ciò. E. Tutte queste tre cose. Le leggende dicono. Che ci proteggerà. A tutti quanti. Se le facciamo. Quindi. Facciamole.